con la cosiddetta, tra virgolette, nostra gente, che sono i nostri iscritti ma anche iscritti alle altre organizzazioni sindacali. Perché noi crediamo che in questi cinque articoli della Costituzione che abbiamo scelto si possa manifestare il nostro pensiero che durerà in una campagna che parte oggi di sensibilizzazione, di amore verso la Costituzione per tutto il 2012. A noi ha molto colpito l'atteggiamento che ha avuto la raffineria di Gela nei confronti dei lavoratori dell'Indotto che rivendicono la libertà nel 2011. È un po' imbarazzante ripeterlo ma è utile dirlo quando abbiamo scelto di manifestare anche i lavoratori che avevano perso il posto di lavoro. Secondo noi le aule della giustizia è giusto impegnarle laddove si ravvisino reati contro la pubblica amministrazione, contro una volontà criminale, contro una seria minaccia o ridossione. Noi crediamo che ci sia un atteggiamento discutibile invece verso quelle grandi industrie che pensano di poter bloccare l'organizzazione sindacale come regge del primo comma dell'articolo 39 della Costituzione italiana è libera e tal noi vogliamo che possa rimanere fino alla fine non solo dei nostri mandati personali all'interno del sindacato che sarebbe cose confondo ma soprattutto nei cuori dei lavoratori e delle lavoratrici.